Sempre più ragnatele, sempre più ragni e sempre più segnalazioni come quella di un nostro telespettatore. Speriamo che diano una pulita perché questi ragni sono troppi nel Ponte Vecchio. E' questo l'ultimo messaggio che arriva alla redazione di Rete Veneta e noi siamo andati a vedere. Travi e lampadari ricoperti da fitte tele, tantissimi nidi di ragno. Un ponte degli Alpini ormai soffocato dalle ragnatele e lo sarà da così a peggio, complice il caldo, almeno fino a settembre. Sì, perché mancano quasi tre mesi alla seconda fase di pulizia del ponte, quella dedicata al soffitto interno e lampadari. Un ponte vecchio, già o meglio ancora una volta sotto i ferri. E' in corso infatti il restauro ligno delle balaustre scrostate a pochi mesi dall'ultimo intervento. Ragnatele e nidi di ragno quindi che passeranno l'estate sopra la testa dei bastanesi, ma soprattutto dei tanti turisti che come ogni anno vengono a visitare uno dei simboli storici della città e dell'intero territorio. E allora forse il consiglio è di guardare a monte, a valle e non stare con il naso all'insù.